Sì, grazie Alfai, quest'anno ospiteremo questa bellissima manifestazione, per due giorni saremo protagonisti, potremo fare ammirare le nostre bellezze architettoniche, culturali, ma soprattutto anche le nostre bellezze che riguardano i prodotti tipici locali che caratterizzano la nostra città, quindi è una grande opportunità per Cagliazzo, sono previste tantissime visite, tantissimi turisti, quindi la città si sta preparando, posso dire che la città è in festa solo per la preparazione di queste due giornate, stanno collaborando spontaneamente tutti i cittadini, oltre gli enti e l'amministrazione.